c'è questo tipo questa voglia violenta nel corpo il problema è vero non so non devo scrivere non c'è mai venuta è vero no io non ce la scrivi bene no però aspetta perché per fare angel vettano tu devi speccallarmi come fa a farla a casa? vabbè speccallarmi in cosa devo speccallarmi? beh devi si vede i breakpoint domenazioni giuste io ho la gruggire chi rossa che non ho arrollato ho capito ma sai perfettamente i breakpoint da mettere? no no quello no 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 questa 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 la devo a te a me no no sto cercando sto cercando in martello premata sto cercando oh c'è una bombaggia ma come si diventa con le mese al pistol? sono forti ora avviso il pistol non fatti i The Dream Soul Fire è back once again vabbè le usavo anche prima perché sono sinergiche con l'abilità per se una scanna mi stavo sul cazzo guardare cazzo guardare back from the memes bua nnnooo mi ha rubato una eccolo non si corre sulle scale, ti fai male non c'è anche e poi muori sulle lame, vedi? non c'è niente, incredibile DECAZO, 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 DECAZO NOON FALL! adeguto lui o te lo slimo ma c'è ancora il bugger che vuole il fuori mappa da qui? no sembra la ben fxe e oggi ormai in quella stanza po' scoperto che c'era il bugger che aveva che ho finito la fonda e abbiamo un milano vi così effettivamente me la divento sempre anch'io attenziono al lordo ora Non mi ha ricordato dell'esistente di questa cosa, è una clip che vi dito che ci entri e vuole fare la mappa Poi lego è un problema che c'era tipo dal lancio del gioco Quando nessuno ce ne andava quindi non era mai stato fixato Poi sapendo che c'era il bug la gente ce ne andava qualcosa per bagazzi E quando è stato fixato il bug la gente a quel punto ha detto che c'era una stanza Sì perché ovviamente ci ha scritto abbiamo fixato la stanza e ti dicevo la Questa non c'era la stanza No, c'è questa c'era la stanza Che c'è? Carattogri Ehi so sta a terra Ma perchè si non aveva l'arastogra? Che palle Eh neanche saltando ce la fa scappare lì No, a parte che non avevo l'abilità Avevo l'arastogra Che è ancora top Ma no, non potevo, non potevo, perché non vedevo niente E' rimasto un casto nell'angolo Vedi lo vedi tutto il giubarite Sì C'è Ma che cosa è? T'è Ma che cosa è? C'è un ordempo? C'è un ordempo? C'è un ordempo in mezzo a sottofetto Ehhh c'ho troppa cento Che è sto ladio? Si è un ordempo in mezzo a sottofetto Ah non c'è male, è uno di vita. Non è morto? Si ma mi sono anche curato. Ho trovato alcuna come l'ho trovato. Myrath! È sicuro di nuovo? L'ho ucciso? No, da te che ora si è morto. Non avevo ucciso uno appena... Ha visto una porca un fighter. Un'acqua. Ti vedi che... Mi chiede una bomba? No, assolutamente. Lui non lo butta a terra. Non c'è niente la bomba proprio. Generale. In realtà l'ho buttato, dovresti buttata a terra. Si, io capito. Fa 30 la bomba a noi. Non sto parlando della bomba. Dai. La bomba del charge sta parlando. La bomba, no, la bomba è spettata. Non si è capito, però... Lo dovresti buttare a terra. In teoria. Però il mondo medio delle animazioni mi non puoi interrompere con lo Saller. Perché è già tre volte che gli... Che gli faccio F addosso, lo sposto e basta. O forse hanno reso Roger un ostagherabile. No, sono cascato gli imbecile. Magari lì dai più colore su dai, non sta grave. Sono spesa. Madonna. Ma già avverso ancora perfetto. Ma già avverso ancora... Ma io con le coccole è un casino perché mi muovo troppo. S' abitata a Sienna. No. 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 cazzo di cazzo non è ma se hai visto una tre grande solo spai c'è una cura qua di chi cura proseguiamo mentre facciamo l'orda devo punto che merda ovunque arriverò anche dalla strada dove dobbiamo andare a noi ora eh quanto vuole a tagliare? non ci so eh fino a di centra si comunque si se non mi mettevo io in posizione per sparare cazzo mi ha colpito ma basta tedi no dai davanti a me non l'ho visto stran stran ma se c'è qualcosa qui ma ci ha avuto senare di velocità ma trolla che trolla adesso cazzo è so Wunderbext chi è che va a prender tomo? ma io non mi riesci mai a prenderlo mi fa male se non è così è l'unico che non ha no no ci si è avuto più grande che cazzo è? ma come stai attento? ah non mi riesci a testa ecco che cosa ma il coso? il tomo? due neochrome che vanno lascio una cura lì dove devo andare? la lampada e la piattaforma dall'altra quarta dove lo trovo? è dietro la cesta? vai dove scende? tu arrivi qui in mezzo abbiamo messo noi ecco come una forza la terra te la mia attenti no andò via what the fuck no l'ho ucciso è impossibile da schivare hai chiuscito addosso si mi è caduto addosso l'ho piovuto sui c'è andato a cat e runner? ma in realtà penso si perchè uno stava salendo e poi è andato addosso al Daniel Vazzo si si poi c'è nella palla morta lo vedo madonna beata c'è mi sono girato se uno era lì eh ok ok possiamo andare teorenti come quella patoglia andrà uccisa dici si sta troppo su si 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 no è perché che di quelli girottola a quattro leone tu devi vedere grai ti va un bocca c'è qua li doggiamo a su scazzo pensavo fosse l'orto what? perchè hanno un leech e del death un leech mi afferra eh che sta succedendo qui? 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 no tanto questa patoglia qui è inevitabile c'è un casore lì simpaticissimo sui ero ma è il famoso trova l'intruso intruso trova l'intruso che sta colando a sangue con le sue animazioni guarda 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 no cazerandi guarda guarda qualche parte prima di noi tanto no so spai no 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 WTF?! 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 Ho trovato nell'ultimo Ci lo vedo, ho tipo Ho trovato un fire rat e un caos suore dentro il tornado Il barding del deserto E' ancora vivo, lo vedi? Cazzo si, l'ho salvato Ti ho portato, che tu ti ho portato la vera E' tipo arrivato un caos suore sotto il culo E li ha tirato un colpo, l'ho ucciso Guarda davanti a noi per il fire Per il grassone, comunque Se ne blinkano Stai arrivando Comunque ne ho ammazzato uno di grassone No! E' qui, ha blinkato? Non l'ho body shottato Vero, perchè non ce l'ho al caos Quando l'hai ancora messo? Eh no, dai di olio di prima Sono qui di lì Sì 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 Insomma, quei che c'è lasciato Quelli che ti erano usciti Sì Cioè, quindi non li body shott Li devo proprio farmi rispettare What's up What's up What's up What's up Lucas lì An old ranger trick No, non c'è ancora un mazzallo Oh, arrivano anche da dietro, eh Siamo circondati Poison 8 è finito, cazzo Ma tu sei morto da uno instantaneo, ok? No, è impossibile No, c'erano tutti addosso Ma sono arrivati da dietro, eh Un gratteraneo dietro di voi Easy stomp, schiaccia la salva Occhio al Boison che lì c'è la città Ciao, mi lì c'è la città La plecata, la plecata Mi sono sopposto, che non c'è male Eh, Tomo... Eh, ti puro lo prendo io Esatto, ti puro lo prendo il Tetto lì c'è Ventunfrecci No, a parte che penso, non ho praticamente mai usato l'arco finora Oh, altra forza, lasciamola a loro Anche quest'altro Si è che son dopo il drop? Si è che son dopo il drop? No, ok Uno no Io son dopo Vabbè, andiamo a prende la... Magari cura, si Eh, può prende quella... Si prende due questa Mi faccherò Ti vedo Ti vedo, ti vedo, ti vedo Brincare Ah, è normale Vanno la l'abilità del nano Non mi luccherò Ma c'è tanto Quello c'è tanto lo vans Occhio delice è fantastico, te nemmas un'azione e quella che ti tira di Sì, anche perché... E' l'ho tranquillo pensando dell'ammazzata Il stupro è quanto t'ai vanta dietro, perché tu ancora sparai al primo Mi devi sparare al primo, spara al primo e il secondo dipende E magari non ammazzeremo il primo C'è niente Ormai di qui? L'impalcatura Che cazzo è la guglia? Che cazzo è la guglia? Che cazzo è quell' agglomerato di perfezione che si moltiplicano? Si Eh... perché tu non ti ammazzate come un pixel tipo Erano una persona sola, forse solo Erano una persona sola, poi per caso ho deciso di port하�mi In questo caso è l'AIDS e danno postore Riva a 300, da dove dobbiamo andare? 100 Non so da dove... Morto Lai con il suo maestro! Ma qua, stai dietro, attenti! Non era morto? È morto, è morto. L'ho preso, l'ho colpito, l'ho colpito tutto il terrocio. Poi, un altro speciale vuole sponarmi sotto la sciamme. Bene. Tomo? Chi manca? Precce? Tomo manca... Eh, quello che si vende tra gli veneti fuori. Anche perché, anche perché lui c'ha il dufe. Sì, sì. Figuro. Questo. Vai. Vediamo, ce l'ho già. Vai. 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 Sassin da Fossilani Sì, Sassin Mordi che non voglio dire Sassin da Fossilani 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 No! Una vaffanculo Ho mancao 3 volte in corsa Sassin da Fossilani Allora If it's higher You're looking A inexocus Ciutign Fergio Ainho Cosa 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 Ma che tratte era lì Merda Fatti era letteralmente sopra il tornato Eh l'avevo visto ma c'era nemicino in mezzo Vaffanculo Certo qui Qui di boss ammazzati se ne faranno vai Cioè anche qui come minimo sono due boss Ancora non lo so fare No no per forza C'è il coso Rettogrel Rettogrel alla fine E se ne è già fatto uno all'inizio Ma già si è fatto il retogrel all'inizio Ah si sta c'è uno storm Un paio Quattro cinque stormback che cazzo Non servono Che attenzione a berze che ci sono spesso Mi l'ho ammazzato No è cascato C'è una cura Ottimo Ma mori Ma chiala Andiamo tutti insieme Più 3 HP più 20% Ma anche special Ah C'è il talento Mi sono sempre marcando Allora voglio E se c'è addirittura E metterlo c'è addirittura E metterlo c'è ad attacco Ma chi? Tutti gli amici marcati Ah Cioè non è assolutamente Quello che marca lui Sì Sì Attenzione dietro c'è l'universo Attenzione Matteo perché sei da solo Certo C'è il cadimento Aspetta Allora io volevo alle catene Ma giaccio con la sua Vai C'è sempre i trash Sì sì Non può che dire Madonna come odio combattere Con questo terreno del cazzo Mi ha il colpito a caso Meglio Americano No 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 Love No Time Live molti americano un futuro il mondo di vita no le direi di te lievissasi ma c'è un bel kit e di sotto finalmente ma no 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 ma si perde il dato eh se non l'ho fatto quando hai detto non lo fare non lo faccio e non lo ha detto un panico io ho detto non lo fare lo smessi picciardo era sul bordo rosa non ho veramente in questo studio odio combattere il cazzo di l'attore diciamo ma perché lui se cade sparisce proprio ma comunque anche se morisci io pensavo cadessero non penso che non l'ho mai provato si sto in vermi più dolore grazie bucione cura c'è un risario qualcuno l'ho usato qualcuno esporta davanti davanti c'è più nessuno dietro si è pulito vieni Matteo sentite si è il lato di posidone è cresci di nuovo è il lato di posidone no finiamole in fretta per favore prendi la cugnosa no è crashato serio no no è perché è entrato il bot che palle ah mercerk mercerk ma potrei aspettare un secondo da finire la regione provano che mi manca di sfine belle molto facile eh però mi carica il cazzo di gioco accidente anche perché anche questa è una partita pubblica è sperando di riuscire a caricare il menu per i miei regioni anche un altro sai come è gioco si sta ancora caricando è su un ssd ma ci mette 12 più che e mezzo però che è connesso ho fatto buttato fuori eh lo so ora mi hanno buttato fuori però dopo 30 secondi che mi ha crashato non è che mi si è chiuso il gioco che è disconnesso ma mi ha caricato per 30 secondi no è entrato uno non lo puoi buttar fuori si si lo butto fuori ok mi mando ci sei Matteo ci sono mi potete proteggere certo 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 eh non è ancora entrato però il tizio perché non entra un posto sto stancare fino ad ora non è ancora entrato non è ancora entrato non è ancora entrato no no non lo posso caricare come mai non so devi fare il voto e kick no non c'è nemmeno non so non è ancora entrata dall'altro perché ero capo Ah, ci devi avere qualcosa contro il kick Eh, mi dispiace Matteo Dai, fast, fast, entrate No, o forse perché siamo qui Ah, probabilmente perché, eh, mi sembra anche giusto Hanno messo una protezione che non puoi chiccare la gente se sei vicino alla fine Che è anche giusto Bene, ma a fine di programmare sto gioco in modo che la gente non venga buttata fuori a caso dalle quartiere sarebbe anche determinato Dio, Dio Cristo Ping non mi ha spiegato, la mia connessione è stabile L'aveva buttato fuori il gioco perché è un gioco del cazzo Che è da quando è uscito che ha problemi di connessione Coglioni A parte che c'è un schermo nero Anch'io Infatti quell'altro scriveva Crash Again Aspetta, lasciamo un carico Ah, ok I dati aumentano l'esperienza? No Ah no, abbiamo fatto 1300 anche prima 1320 Ma ti è crashato il gioco proprio No, 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 è disco nesso Ti ha buttato fuori Ah Non sembra tu l'aggassi tanto No, sì, faceva delle brincate ogni tanto Grazie a tutti